La tua azienda ha bisogno di una sferzata di energia? Senti che è ora di dare una scossa al tran tran quotidiano? Alle volte sono i piccoli cambiamenti a dare i risultati migliori. Una pausa a caffè soddisfacente permette di diminuire i livelli di stress e aiuta a mantenere elevate le performance del personale. Il Dipartimento di Psicologia della New York University, Neuron 2013, ha infatti recentemente dimostrato quello che da anni è stato sostenuto da generazioni e generazioni di lavoratori. La pausa a caffè rigenera, aiuta la concentrazione e migliora le prestazioni. Inoltre, un ambiente piacevole e conviviale permette di ottimizzare gli scambi di informazioni tra i reparti e agevole ai momenti di comunicazione collaborativa. Lavorare meglio e più concentrati è possibile. CAD CAFFÉ è lo specialista della pausa che ti permette di creare un break corner di alta qualità con il minimo sforzo. Basta contattare il numero verde 800 168 655 e CAD CAFFÉ ti fornirà il distributore automatico più in linea con le tue esigenze. Scegli la serenità di testare un nuovo fornitore con un periodo di prova di 4 mesi senza vincoli contrattuali. Potrai usufruire di un servizio che garantisce elevata qualità e robustezza dei distributori, design accattivante ed ergonomico delle postazioni, fornitura dei prodotti di caffè e snack e bevande delle migliori marche e personalizzazione degli ordini in base ai gusti e alle necessità. Inserire in azienda un break corner di qualità significa ridurre lo stress e permettere al tuo staff di fare un lavoro migliore. La pausa è il nostro punto forte. Grazie. Grazie. Grazie.